Mario Battuccolo, forse un po' di rammarico per non essere riusciti ad essere efficaci in fase di finalizzazione e ti abbiamo sentito un po' lamentarti a fine negli ultimi 20 minuti, mancava un po' di gioco di squadra? Diciamo che sappiamo di essere tecnicamente una buona squadra e forse questo ci sta un attimino limitando sotto l'aspetto della fase di esattiva, vogliamo cercare la giocata invece di essere più concreti e dobbiamo renderci conto che il calcio di agosto è terminato, adesso ogni partita vale 3 punti e ogni avversario ci aspetta, quindi o cambiamo registro o così rischiamo di fare veramente meno di quello che ci aspettiamo. Ci sono comunque secondo te i buoni presupposti per far bene durante la stagione? Sicuramente la squadra è stata allestita per fare un nuovo campionato, però in campo non va la società, vanno i giocatori, gli attori principali sono loro, devono capire che la giocata singola va bene ogni tanto, se ci intestaviamo a fare la giocata da singolo continuamente rischiamo poi di non portare a casa il risultato come è successo oggi. Ti ringrazio. Grazie a tutti.